Questa chiesa accoglie Noas Flav de Britten, l'Arca di Noè, la grande produzione che vede un mito a Camerata, Teatro Metastasio, che è una delle chiese più belle della città, ma è anche una chiesa che sta su una porta, vicino alla porta, porta di San Domenico proprio. E questa porta è una porta che deve aprirsi, aprirsi a tutto il mondo di questa città, per fare entrare tutto questo mondo in questa bellissima chiesa che diventa il luogo della bellezza, il luogo dell'arte, il luogo in cui le forze più giovani, più belle della città, producono il simbolo più bello che ci abbiano consegnato le Sacre Scritture, l'Arco Baleno.